Un intervento atteso da anni che finalmente ha preso il via, attivato il cantiere sulla provinciale 129 nel comune di Salerno alla frazione Croce. Si tratta della strada che conduce tra l'altro visitatori e turisti al castello Arechi, un'arteria importante anche per il turismo cittadino dunque che necessitava da tempo di lavori per la messa in sicurezza, come ha spiegato il presidente della provincia Michele Strianese. Un progetto che parte da lontano perché abbiamo programmato questo intervento, ovviamente l'intervento progettato riguarda anche il tratto del comune di Cavo, oltre che quello di Salerno. Stiamo lavorando alla pulizia, diciamo delle cunette, oggi iniziamo proprio materialmente i lavori, attenzioneremo anche l'impianto di pubblica illuminazione perché i cittadini ci segnalano questa esigenza, una serie di malfunzionamenti che andremo ovviamente a rimuovere, anche perché questa è una zona diciamo un po' più periferica e poi metteremo anche in sicurezza dei parapetti, metteremo dei guardrail nuovi per assicurare diciamo sempre maggiore sicurezza a chi la percorre. Soddisfatti anche i residenti della zona che finalmente hanno visto i mezzi al lavoro sulla provinciale. Questa mattina finalmente iniziano i lavori di rifacimento dell'asfalto e degli impianti della luce e alcune parti verranno sostituite i guardrail. Siamo grati sia alla provincia che al comune di Salerno per questo inizio di lavoro.